Vuoi anche mettere una trama? Cioè, la trama? Cosa serve la trama? Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi siamo qui tutti riuniti per recensire la catena d'oro di Cassandra Clare E come tutti i video su Cassandra Clare, presenti sul mio canale, hanno bisogno di qualche doverosa premessa, ovviamente Innanzitutto, se vi è piaciuto, buon per voi, io rispetto ogni opinione, quelle positive e quelle negative E vi chiedo di fare altrettanto con le mie, perché ovviamente sono mie opinioni, miei modi di vedere il libro La maggior parte di questo video si basa su opinioni personali, anche se ci sono di mezzo dati oggettivi che penso siano innegabili riguardo a questo volume Quindi non sentitevi giudicati, non stiamo giudicando voi e i vostri gusti, stiamo giudicando questa roba qua, cioè io e me stessa, quanto pare al plurale Non sentitevi giudicati anche se avete un'opinione nettamente contraria alla mia, tutte sono valide, tutte sono legittimate ad esistere Amate Shadowhunters? Ottimo, lo rispetto e penso sia totalmente lecito, io no E penso di avere il diritto di parlare di questo libro anche con un pelino di ironia, anche se è la vostra cosa preferita Soprattutto visto che argomenterò moltissimo ogni mia opinione e ne vedrete tantissime Quindi il mio invito è a chi invece ha amato moltissimo questo libro, è di non venire ad insultare me, che tanto non serve a molto Ma di argomentare, di controbattere alle mie argomentazioni, perché se avete un'opinione contraria sono molto contenta di sentirla Penso sia un dialogo più costruttivo che farsi la guerra vicenda Io non ho mai nascosto, anzi ci sono video molto lunghi dove argomento lungamente quelli che sono i miei pensieri su Shadowhunters Io la trovo una saga molto mediocre dall'inizio, però mi rendo conto che è un prodotto di intrattenimento ed è molto amato Quindi, ripeto, se siete molto fan non vi sentite delegittimati, non vi sentite insultati Nessuno sta giudicando i vostri gusti e ciò che vi piace A noi possono piacere tutte le cose di questo mondo che va benissimo, basta che siano legali E Shadowhunters è ancora legale nel 2020, quindi direi di iniziare Allora, parto con una serie di nuove premesse che però hanno molto a che fare con questo libro Cioè, io da un lato speravo che Cassandrona Nazionale avesse smesso di mungere la mucca E di continuare a spillare soldi ai propri lettori Peraltro per tornare in un mondo che secondo me, per come lo sta gestendo, non ha veramente più nulla di originale da dare E non ha alcun senso di esistere Nel senso che basta, cioè, sono 570.000 libri Ok? Ci paga la pensione, le abbiamo pagato la pensione, le abbiamo pagato lo stipendio, le abbiamo pagato la casa, le abbiamo pagato tutto Ma basta, perché comunque siamo al cinquantesimo libro di Shadowhunters Dove non c'è nulla di originale Però, da un lato mi metto nei suoi panni e mi chiedo Ma perché smettere quando ci fai ancora più soldi anche scrivendo una telenovela s'argentina? Cioè, questo è uno sceneggiato fondamentalmente E, non lo so, io lo trovo molto irrispettoso nei confronti del lettore Però, i lettori continuano a comprarlo, continuano ad amarlo Quindi, boh, buon per lei Ha trovato il modo per far campare lei e i suoi discendenti in ogni ramo Vabbè, comunque, vabbè Considerazioni personali a parte qualche ulteriore premessa Se non avete mai letto nessun libro di Shadowhunters Questo è forse il meno fuorviante di tutti Gli devo questo Perché, effettivamente, Cassandrona ha eliminato il superfluo Cioè, quello che non serviva, ovvero sia la trama che il background Che tanto non ci frega assolutamente nulla di quelle robe lì E dopo, comunque, vi spiego nel dettaglio Se, invece, non vi sono mai piaciuti i libri di Cassandra Clare E, comunque, in generale, Shadowhunters Perché tanto lei scrive solo quello Cioè, non vi piacerà questo Cioè, questo rappresenta tutto ciò per cui Cassandra Clare viene criticata Reiterata all'ennesima forza Cioè, proprio de goccio Cioè, diciamo che, invece che cercare e provare di migliorarsi Cassandra Clare ha addirittura eliminato il superfluo Perché, alla fine, niene frega niente Tanto vende lo stesso Anzi, a questo punto, forse, ha accontentato ancora di più i fan Comunque, diciamo che, generalmente, io sono convinta Che questo libro verrà amato tantissimo Soprattutto da quei lettori che sono molto affezionati alla parte romance Della saga di Shadowhunters Sì, ok Che state pensando e cosa c'è Oltre a romance in Shadowhunters La risposta è nulla, praticamente Però, in questo caso, proprio all'ennesima potenza Cioè, non finge nemmeno più di dover emettere alcuni elementi aggiuntivi Tipo una trama Tipo un background Un world building Cioè, non c'è nemmeno il cattivo per farvi capire in questa saga Cioè, nel senso, poi, cosa puoi apprezzare oltre a romance in Cassandra Clare? Le idee mai realizzate? I vaghi echi a cui si è ispirata? Cioè, io non credo Poi, siete voi fan in grado di smentirmi Insomma, quei poveretti che, come me, hanno provato ad avvicinarsi a questo volume Sperando in un miglioramento No Cioè, tranquilli che non c'è Cioè, raga, lasciate No, raga, cioè, lasciate proprio ogni speranza voi che aprite sto libro Però vi dico cosa non vi mancherà Però vi dico cosa non vi mancherà Perché è tipo un marchio di fabbrica Innanzitutto, una sequela lunghissima di descrizioni di robe inutili Tipo i vestiti, le acconciature, i balli Cioè, tutte ste robe che non servono a nulla Ricordo al pubblico da casa che mi sta seguendo Sarà arrabbiatissimo già al minuto 5 di questo video Che descrivere come i personaggi si vestono Non significa fare caratterizzazione del personaggio Insomma, noi sappiamo bene come sono vestiti E quanto sono affascinanti, fondamentalmente Assistiamo a quella che per me è una scrittura decisamente imbarazzante Per quanto riguarda la trama, il world building La caratterizzazione dei personaggi La credibilità della storia Le relazioni tra i personaggi Il sistema magico La ripetitività delle scene E anche dei personaggi stessi Delle dinamiche Di un po' qualsiasi cosa Scene tra l'altro mega ripetitive Che sono totalmente inutili Al proseguimento della trama E cioè, nel senso trama Non c'è la trama Quindi, beh, è praticamente un commento inutile il mio Cioè, spoiler, non c'è Vabbè, ma tanto ve l'avevo già fatto alla riga 1 Ci sono una sequela immancabile di storie d'amore Di cosini che si vogliono limonare cosine E sono tutti praticamente stupidissimi insta love Perché ricordo al pubblico da casa Che per una storia d'amore quantomeno sensata Ci devono essere una serie significativa E qualitativamente significativa Di interscambi tra i personaggi Cosa che qua non c'è E poi ci sono questa serie di personaggi Che di differente uno dall'altro Hanno solamente, non so Gli occhi, i capelli di colore diverso E sfido chiunque a distinguerli Soprattutto quelli maschili Però, se voi ce l'avete fatta Io vi ammero tantissimo Perché vuol dire che siete stati sicuramente più bravi di me Allora, ho anche dovuto farmi Una sorta di schema delle famiglie Perché qua è tutto un rimando A questo è il figlio di Questo è questo Questi sono fratelli No, ma poi sono anche cugini E questa cosa qua è stata Ciò che mi ha guidato un pochino inizialmente Pensavo di aver capito cose Poi ho scoperto di non aver capito niente Perché la mia badante Cioè Elena mi ha rimandato lo schemino corretto Perché vuol dire che Tutto ciò era talmente nonsense E talmente confuso Che probabilmente Cioè io continuavo a non capire niente E questo è dovuto alla scrittura Perché l'ho letto anche con grande attenzione Visto che sapevo che volevo farvi la recensione E in pratica Cioè questa roba che è sbagliata In realtà Cioè è tutto un Cosino è figlio di Cosina sta con coso Cosina ha relazioni di qualche tipo Vabbè Insomma è una sequela Che una puntata Anzi Una stagione intera di Beautiful Gli fa una pippa Cioè preparatevi Perché sono 600 pagine Di una telenovela s'argentina We like In qualche modo Però direi Di andare per gradi E visto che ho fatto troppo la simpatica Fino adesso Avrò già 100 pollicini in basso Direi di partire con La parte seria Seria Di questa recensione Ovvero Cosa non mi ha convinto Della trama Cioè Innanzitutto voi Non partite prevenuti Solo perché è un libro Cioè Non è che deve avere la trama Non è necessaria Cioè Non è che deve esserci per forza Solo perché è un libro Cioè Chi ve l'ha detto Non è che conta O serve un granché Se pensate che la trama sia un elemento necessario Al fine della narrazione Tranquilli perché la catena d'oro Ribalterà le vostre grandi certezze Cioè qua non ce ne frega Una beata ramazza della trama Ma cosa racconta E mi fa già ridere Che cosa racconta La catena d'oro Nulla In pratica Racconta Di questi figli Di Shadowhunters Tra cui Tess e Will I figli di Tess e Will Che sono James e Lucy E Come dire Cosa racconta Racconta Che loro Insieme a un gruppo allargato Di parenti Cugini Amici Intessano Una serie di relazioni Di fondo Cioè non so Sembrai neanche come continuare Perché di fondo Il succo che Cordelia Carceres Arriva a Londra Per Cercare di Ingraziarsi Alcune figure E trovare marito Nella persona specifica Di James Herondale E Che dire Follettini Follettini E poi Unirsi alla sua Parabatai Che è Lucy Cioè la sorella Di James E Praticamente Iniziano a Capire che c'è Tutto un intrallazzo Amoroso Ulteriore Tutti i personaggi Cioè Veramente Non c'è la trama Raga La trama Sono Le relazioni Tra i personaggi Che sono abbastanza Incasinate E Influenti ai fini Della trama Ci sono Degli attacchi Demoniaci In città Che dovrebbero Essere il fulcro Di tutto Ma non lo sono Cioè sono una roba Totalmente dimenticabile Che nessuno percepisce Come problematica Perché tanto siamo Interessati ad altro Quindi direi che Più o meno Questa è la mia Versione della trama Qua vogliamo Che i cosini Si mettano con le cosine Le cosine Si mettano con le cosine I cosini Si mettano con i cosine Tutto il resto Cioè frega un cazzo Cioè ve lo giuro Per me è stato Faticosissimo Ai limiti Dello sforzo Perché c'è Pensate 600 pagine Solo di questo Cioè raga 550 Pagine Di tutta Sta roba Cioè Dove non c'è Una trama Non c'è Un world building Non c'è Un Qualcosa Un elemento Sono solo Intrallazzi Familiari Cioè Almeno Non so come dire È un discorso Cioè un po' Anche generale Sulla saga Di Shadowhunters Anche vedendo Un po' Questo punto Gli altri romanzi Almeno Com'è partito Erano 3-400 pagine Di una storia Leggera Per quanto Possa non essere Stata apprezzata Da me Io capisco Ve lo giuro Ve lo giuro Che io capisco Perché fosse Piaciuta così tanto Però almeno Avevano queste Lunghezze Anche necessarie Cioè necessarie Per modo di dire Però io lo capivo Ve lo giuro Non sono così cattiva Come mi disegnano Però Avevano questa lunghezza giusta Poi ovviamente Arriviamo alla fine Della saga Di The Mortal Instrument Cioè la prima Con questi libroni giganti Ma perché sai Dovevamo ancora Spremere la mucca Fino in fondo Poi andiamo ai pre Quelli pre Quell'hanno tutti Una grandezza Più o meno Accettabile Per ciò che contengono Poi arriviamo A la saga Di The Dark Artifices E boom Cioè Lady Midnight gigante Tutti gli altri libri Che seguono Lunghissimi Lunghissimi Per poi diventare Una saga Che non è piaciuta Fondamentalmente A nessuno E poi arriviamo A questo Cioè Che adesso Non sembra nemmeno Un libro così grosso Però ve lo giuro Abbastanza pesante E consistente 600 pagine Di nulla Cioè che senso ha Scrivere 600 pagine Vendere 600 pagine Per rimarcare Le stesse idee Le stesse dinamiche Gli stessi concetti Che hai già ovviamente Esplorato In tre saghe Non è che questa è la prima Ci sono tre le serie Ok Più le varie novelle Le varie pippe Le varie robe E ok E usi 600 pagine Per non fare Né approfondimento Dei personaggi Né caratterizzarli Un minimo E soprattutto Non hai una trama Cioè Mi hai raccontato 600 pagine Di nulla Cioè E oltre alla trama Che è veramente Qualcosa che manca O comunque È talmente Boh Di serie B Di sottofondo Che nessuno di noi Si accorge Se è presente o meno Cioè No Non è che Non te ne accorgi Non c'è Quindi non è Qualcosa che Mi sto inventando io Per fare questa recensione Ma Ci sono Un'altra serie di elementi Oltre alla trama Che mancano E davvero Rendono ingiustificabile Questo libro E questa lunghezza Non esiste per dire La tensione nel libro Che è un elemento fondante Fondamentalmente Di una cosa del genere Cioè Non c'è tensione Tra le coppie E visto che Ti stai concentrando Su questi Cioè Perché io Che già so Come andrà a finire Da un lato Perché ci sono Gli alberi genealogici Che girano da anni Un pochino Perché poi I personaggi Cioè Perché infilare Tutte ste creature Demoniache Per dire Se poi tanto Alla fine Non ci interessa Approfondire Seguire quel caso Lì Perché siamo Troppo impegnati A seguire i vari Inciuci Tra tutti E alla fine L'unica cosa Che ci interessa Chi limona con chi Tra l'altro Grazie poi A una serie Di soluzioni Pigrissime Già abusate Dalla clare Ripetitive Da veramente L'inizio Di questa serie Cioè Da La città di ossa Cioè Vi faccio alcuni esempi Perché poi Sembro pazza E poi Dite che sono io Che parto prevenuta Allora Tutto ruota Ad un cast Di personaggi Che sono O figli O parenti Del cast Che noi avevamo Già conosciuto In The Infernal Devices No Adesso mi sto confondendo The Dark Artifices O Infernal Devices Vabbè Il Clockwork Quella roba lì Quello dove c'è Tessa Jam Will E compagnia Insomma Tutto ruota Queste famiglie O personaggi Che sono stati Brevemente accennati Nelle serie precedenti Perché ovviamente Il drammone familiare Non può mancare Poi Vuoi non citare Ogni due per tre pagine Magnus Bain No perché se no Come parte sto libro E poi a un certo punto Bisogna anche che chiamiamo L'aiuto da casa Perché se no Qua non ce la sfanghiamo Questa dinamica familiare È già molto nota Nella scrittura Della Claire Che è chiaramente Tutto figli di Però qua è proprio L'esasperazione Anche perché noi Puntiamo tutto Sul fattore nostalgia Di Tess Will E Jam Perché se no Non arriviamo Vivi a casa Vabbè Comunque Poi Ovviamente Cosa non può mancare Nelle storie Della Claire Il triangolo Cioè qua il triangolo È reiterato In tutte le sue forme Tutti i personaggi Perché se no No Cioè Come fai a scrivere un libro Senza il triangolo Cioè una storia Della Claire Senza il triangolo Poi ci fregasse qualcosa Di questi triangoli Cioè vabbè Cioè qua proprio i triangoli Si moltiplicano In ogni forma Conoscibile Dall'umanità Poi Cioè una cosa che a me Fa un po' sorridere È che qua Si è dimenticata Oltre alla trama Di inserire Un cattivo Perché fondamentalmente Il cattivo Di questa serie Che non esiste È La presenza Quindi cioè Nemmeno Averla resa Qualcosa di corpore Una minaccia reale È la stessa presenza Cattiva Cioè Il malvagio Della serie Di Dark Artifices No Della serie Di Infernal Devices Qual cazzo è La serie Di Test Gem E Will Vabbè Quella Che avete capito Cioè Casino Cioè C'è la stessa dinamica Dove c'è questo cattivo Che minaccia Ovviamente Una famiglia O una persona Che cerca Vendetta Verso di loro Proprio perché Cerca di recuperare Una persona cara Oppure Cerca di vendicarsi Stessa dinamica Che abbiamo già visto Prima E soprattutto Rivediamo ora Perché Nemmeno Si è preoccupato Di doversi rinnovare Ok Non è una cosa Gravissima Cioè Essendo un libro Che fondamentalmente Non dovrebbe essere Un romance Ma dovrebbe parlare Anche comunque Degli Shadowhunters Fate Vobis Il triangolo No Non l'avevo Considerato Allora Qua ne abbiamo Abizzefe Cioè Metti mai che i triangoli Si confermino Una dinamica Tigra E soprattutto Si confermino Un po' noiosetti Da leggere Visto che sono Molto prevedibili Ah l'ho detto Che qua è così Ecco qua Confermo Che c'è grande pietà E grande prevedibilità Allora Poi tutte le relazioni romantiche Sono un casino Fotonico Se nella serie Di Infernal Devices Per quanto A mio parere Non siano sviluppate Per nulla bene Però so che il pubblico È molto affezionato E riconosco Che effettivamente Sia riconoscibile Il triangolo Sia una dinamica E una relazione Comunque Che può intrattenere Riuscivi a seguire bene Intanto La relazione principale O almeno Il nucleo principale Di tutto Questo Cosini Vogliono limonare Cosini E poi Seguivi In maniera Cioè Avevano buttato dentro Anche tutte le altre Anche se non hanno Alcuna rilevanza Però intanto Sapevi Cosa seguire Cioè Il resto era Tutto super marginale Però Intanto c'era Cioè E comunque Secondo me Già erano eccessive Quelle marginali Perché tutti i personaggi Hanno lo spessore Di un banco Ma quindi Era abbastanza inutile Andare sui personaggi Secondari Quando già Fare i primi Tre principali Era un casino Però va bene In fondo In fondo Cioè Diciamocelo C'era una certa Continuità Sono Buona Cioè qua invece Le relazioni Tra i personaggi Sono delle vere Proprie transazioni E Non so Persone si arrabbiano Con altre Se non Se non Fanno Cioè Veramente Anche perché Sono tutti elementi Che poi dopo Vediamo Nei personaggi Però che Ripeto Come dicevo Anche all'inizio Non creano Tensione Perché Comunque Tu lettore Già Purtroppo Hai il difetto Di sapere Già Cosa succederà Alla fine E questo Già È una grande Pecca Di tutta La serie Che non Vogliamo Sollevare Io la Solleverei Perché comunque È un elemento Non di Secondo Piano A mio Parere Però Proprio Questa Mancata Tensione Tra le Relazioni Che sono Fondamentalmente L'unica Cosa Presente In questo Libro Continua A farlo Percepire Come Super Piatto E Vabbè MM Comunque Coppie Specialmente Omosessuali MM Dove Ci sono Problemi E conflitti Con il conclave Che non riescono Ad accettarmi Cioè Il drammone Vi ricorda Qualcosa? Il triangolo L'ho già detto? No raga Però Parte degli scherzi Non riesco A stare seria In questa Recensione Ve lo giuro Ci sto provando Però Parliamoci Seriamente Parliamo Della noia Cioè Questo libro È noiosissimo A una lentezza Assurda Tutto per scrivere 600 pagine Tra l'altro Di nulla Un ritmo Lentissimo Intervallato Da questi flashback Che devono farci Capire cose Perché se no Non si capiscono E comunque Anche quando le capisci Dici vabbè Quindi Potevano Semplicemente Aggiungere Delle scene Tipo Poteva inserirle Nel prologo Poteva fare un lavoro Nel prologo Dove in un capitolo Riassumeva tutta La dinamica Del flashback Ed eravamo Già a posto Invece no Invece Dobbiamo perpetrare Questa sofferenza Verso tutti i lettori Cioè Proprio il ritmo Di questo romanzo Secondo me È anticlimatico Come si direbbe In inglese Non so se esiste In italiano Però veramente Ti esaspera Esasperante Perché Proprio già Ci metti Metà del libro Cioè Ci metti Metà del libro Allora Metà del libro È solo Proprio Unicamente Legato A farci conoscere Vedere i cosini Allora Già però Dopo tre capitoli Tu hai capito Che qua una trama Non ci sarà E sarà solo Unicamente Legato alle relazioni E quindi Già è pesantissimo E poi dopo La seconda Metà del libro È una Pugnalata A livello Di Cioè Non so Shame 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 Col cilicio Proprio Poi una Drammaticità Esasperante Per il vuoto Peraltro Cioè Sul vuoto Non c'è Nulla Che giustifichi La drammaticità E la carica Che assumono Alcune scene Alcuni personaggi Alcuni sentimenti Cioè Non hai Alcun elemento Come lettore Per sentire Tutta questa Forza Trascinante Tra le relazioni Tra la storia Dei personaggi Cioè Boh Super prevedibile Perché ragazzi Cioè Perché è tutto Prevedibile Dai primi Cinque Capitoli E Io non riesco Veramente a capire Come il plot twist Abbia sorpreso Qualcuno Perché Boh È chiamatissimo E il world building Qua è totalmente Inutile Cioè Allora Qua è la serie Dove tu Non devi costruire Il world building Perché l'hai già Fatti in altre 28 serie Però tu ti devi Appoggiare adesso Per costruire un po' La narrazione Ma che c'è frega Ma che Cazzo c'è frega Questa roba Vabbè Spreco totale Di cosa vuol dire Essere uno Shadowhunters Tanto alla fine Cazzo gliene Dei demoni Che devono capire Con chi limonare Cioè Quali parenti Farsi Quali cugini Quali Lo giuro Sono esasperate Non sono nemmeno Un terzo Della recensione Infatti Anche pensiamoci A un livello Più grande Cioè adesso Voglio spezzare Una lancia Anche a favore Di Cassandra Clare Del mondo Shadowhunters Cioè io penso E ho sempre detto E pensato Perché sono convinta Che questa serie Se fosse stata scritta Diversamente E se avesse avuto Un approfondimento Meno stereotipato Dei suoi personaggi Cioè se avesse avuto Un approfondimento Dei personaggi Cioè se non fossero stati Solo stereotipi Per me Ha veramente Un potenziale assurdo E per quello che sono Anche un po' risentita Nei confronti Della serie Nel senso che Secondo me Tutto il mondo Messo insieme Perché non è creato È messo insieme Dalla Clare È potenzialmente Una bomba Il problema È come lo sfrutta E lo sfrutta male A mio parere Perché poteva essere Una serie della madonna Raga Cioè Pensate a Questi libri Scritti da una mano Capace di scrivere fantasy O urban fantasy Una bomba Vabbè Questo poi è un'opinione Totalmente personale Come tutto il resto D'altronde Però pensiamo A un elemento Che è fondante Della narrazione In generale Ma soprattutto Nel caso Dello scatenamento Degli eventi Insomma L'origine Anche Dell'esistere Di ogni serie Di Shadowhunters Ha sempre di mezzo Una posta in gioco Molto alta Ed è così alta Sempre perché c'è O il mondo intero Da salvare O tutta la fazione Degli Shadowhunters O tutta la Cioè insomma Altre Oppure gli umani Le altre fazioni Insomma C'è un tipo Di tensione Di fondo Che comunque Giustifica anche La scrittura Di tutti quei libri Stando molto larga Cioè insomma Queste persone In pericolo Queste poste In gioco Facevano sentire Il lettore Come se ci fosse Effettivamente Anche la tensione Ci fosse qualcosa Per cui combattere Per cui valeva la pena Esplorare il mondo Ecco no Qua è tutto insignificante Cioè no Questo si concentra Unicamente sui drammi Familiari Sui drammi Da teenager Rispetto ovviamente A concentrarsi Su qualcosa di Ovviamente significativo Per il mondo intero O una posta in gioco Che giustifichi Il loro essere Shadowhunters Qua se fossero stati Contadini Era la stessa Identica cosa Cambiava nulla E soprattutto Perché proprio Da metà libro In poi E ho segnato Il punto In cui avviene Cioè niente Sembra Particolarmente Significativo E soprattutto Si trascina Proprio Come uno zombie Non ha veramente Senso giustificare Tutte le altre Pagine lette Cioè veramente Io penso che A livello comunque Di costruzione Del libro Mi concentro ovviamente Sulla struttura Del libro Sulla sua Narrazione Sia veramente Ingiustificabile Soprattutto perché Il world building Qua a questo punto È inutile Avrebbe potuto Scrivere sicuramente Un buon romance Eliminando Tutto ciò Che non ci serviva Eliminando Veramente Gli elementi Superflui Che sono quelli Che dovrebbero Rifarsi Quanto meno Alla trama E al world building Io Se fossi stata Cassandra Clare Visto che Questa è una dinamica Molto amata Dal suo pubblico Sono dinamiche Molto amate Dal suo pubblico Avrei preso E avrei scritto Qualcosa Che non c'entra Nulla Con gli shadow hunters Con questa trama Cioè almeno Lo vendi come romance Che si concentra Su cose familiari Lo sai Almeno Parti prevenuto Però almeno Non sfrutti Un mondo Che sinceramente Secondo me Per come lo sta scrivendo Non ha più nulla Da dire Quanto meno A livello globale Di struttura Di sistema magico E di ambientazione Perché Ma io direi Ma io direi di passare Ai personaggi Che sono la cosa Che più mi fa salire Il demonio Perché voi direte Vabbè Non ha messo la trama Perché si è concentrata Sui personaggi Come siete Molto Molto ingenui Cioè veniamo Proprio al punto Che più mi fa salire Il demonio Cioè mi chiedo Innanzitutto Alla base Perché scrivere Un cast Di Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci personaggi Più Almeno Quattro Sei Genitori Buttati Genitori Adulti Buttati in mezzo Se tu non riesci a fare L'approfondimento Nemmeno di uno Di questi personaggi Cioè perché non riesci A caratterizzare Nemmeno un personaggio E ne butti In mezzo Dieci Cioè gestiscine Tre Perché è veramente Innegabile Il fatto che non abbiano Alcun tipo di caratterizzazione Questi personaggi E fra un po' Entro nel dettaglio Prima che mi arrivino Tutti alla gola Però perché non ne gestisci Tre bene Invece che metterne Dieci a caso Dieci che Ti servono Solo e unicamente Per espandere Le varie relazioni Sennò poi Non potevi nemmeno Giustificare L'aver scritto Seicento pagine Su tre persone Ma Il senso Perché i miei vicini Hanno deciso Di fare oggi La potatura Delle siepi Vabbè Forse perché sto parlando Di questo libro Allora però Andiamo con ordine Perché sapete Che io ci tengo Moltissimo Alla costruzione Dei personaggi È la cosa Che di solito Mi fa salvare I libri Anche quando Sono orrendi Quindi Grazie Siamo tutti a casa Grazie Mi fa un gran piacere Però Qualcuno Deve fare i soldi Su BookTube Italia I soldi Vabbè E niente Ci proviamo Se poi sentite Il sottofondo Anche sti cazzi Allora Perché sono problematici Tutti questi dieci personaggi E quant'altro Ruota attorno Perché sono tutti La ripetizione La reiterazione Di stereotipi Innanzitutto Stereotipi Generici Dei personaggi Ma anche Soprattutto Sono La solita Sequela Di personaggi Cassandra Clare Cioè cose Che lei ha già utilizzato Numerose volte Cioè La ripetizione Dell'archetipo Dei personaggi È proprio alla base Del mondo Shadowhunters Dei libri Della Clare C'è sempre La cazzutella Un po' guerriera C'è sempre La ragazza Con le velleità Artistiche O comunque Il personaggio Con le velleità Artistiche Una ragazza Guerriera Un po' Acqua e sapone Un ragazzo Super bono Però Che è introspettivo E meditabondo Cioè Che Intellettualmente È Un ragazzo Divertente Ma Segretamente Nel suo profondo Molto turbato Poi c'è quello sempre imbarazzante C'è il genio Che però È molto taciturno C'è la damina In difficoltà Vuoi non metterla C'è il solito Coglione Che però Ha delle profondità Nascoste Che tu non vedi Ma le ha E ovviamente Sempre solo Personaggi LGBT Almeno uno Con il drammone Sulle spalle Con una storia Drammaticissima Allora E poi vi dirò una cosa Il problema è che Davvero Tutti i personaggi Maschili Al di fuori del loro stereotipo Che incarnano Quindi in teoria Come si relazionano Con l'esterno Con gli altri personaggi Con i genitori Con le varie relazioni Che intessano E con i propri parenti Insomma Tutte le relazioni Significative Che dovrebbero In qualche modo Farle un po' Uscire dallo stereotipo E ad approfondire Il loro personaggio Soprattutto Nelle figure maschili In questo libro Sono totalmente Sovrapponibili Devo dire che fa Leggermente Un lavoro migliore Con le donne Le tratta meglio Ma gli uomini Io ve lo giuro Raga Continuava a confonderli E io non mi reputo Stupida Del tutto Quanto meno Lo sono Spesso Ma Confondere 4-5 personaggi Maschili Perché non riesci A capire Chi è cosa Chi fa chi Chi si differenzia Anche solo nel tono Di voce Nelle cose che dice Nel modo di agire È grave Molto spesso Lo sono anche Quelli femminili È vero anche Che con quelli femminili Almeno Sono meno È arrivata Pipi A Ciao Bibi A personaggi femminili È balzata su di me E Però è vero Che diciamo Se le donne Hanno un trattamento Leggermente migliore Non pensate Che sia un trattamento Eccezionale Poi c'è Io non ho capito una cosa Sono tipo Tutti amici Tutti interagiscono Andando d'accordo Quando poi inizialmente Ci viene detto In realtà Un'altra roba Su almeno uno Dei personaggi Ma vabbè Sti cazzi Poi capiamo Che ha una storia Attormentata Ovviamente Bibi Però non puoi salire Sopra Stiamo parlando Di cose serie In questo momento Lo so che non lo ritieni Abbastanza serio Ma sì Ok Il problema È che tutti questi Interagiscono Ma non stanno mai Insieme Cioè Non ha Veramente Alcun tipo Di senso Questo rapporto Tra di loro Perché sono legati In che modo Noi non lo capiamo Lo diamo per assunto Perché ci è stato detto Perché noi non li vediamo Mai effettivamente Avere delle relazioni Significative Tra di loro Anche di amicizie Non solo dal punto di vista Amoroso Non hanno veramente Mai scambi significativi Per dire Si dicono Ti amo Dopo due volte Che si sono visti O sono perdutamente Innamorati l'uno Dell'altro Dopo aver avuto Un semplice gesto Di cura L'uno verso l'altra O l'altra Verso l'altro O tutto il bollirone Che succede Cioè Si dicono veramente Ti amo Dopo due Si dicono veramente Ti amo Dopo due pagine Sentono il cuore Spezzarsi Al primo sgarbo Al primo gesto Magari non curante Ma porco il demonio Questo non è Istalove Cioè Io sfido Chiunque A dirmi Che questo non lo è Cioè Questo è proprio Il paradigma Perfetto Per raccontare Come funziona L'instalove E secondo me Almeno C'è una cosa Che dovrebbe aver imparato A fare La Cassandrona E cioè Di non farlo Perché l'ha già fatto L'ha già fatto 800 volte Visto che è una roba Che si basa solo Unicamente sulle relazioni Prova Cioè Proviamoci almeno Questo è un mio appello Ovviamente Che andrà perduto Allora parliamo Allora parliamo di James Matthew Thomas Alastair E Aspetta Gli altri com'è Che si chiamavano Charles Nicholas E Jess Poi c'è Vabbè Jess tipo L'abbiamo messo Perché lo dovevamo mettere Cioè Non so Si è preso un permesso Dal lavoro Per comparire Ma in realtà Non l'abbiamo nemmeno Fatto comparire In maniera Seria E poi è anche Molto inquietante Secondo me Ciò che Succede al suo personaggio Noi lo diamo per Ok Ok Ma tanto comunque Cioè Non ha personalità Nemmeno lui E va bene Poi Io ve lo dico Sinceramente Tipo Thomas Alastair Matthew E James Io li confondo Cioè per me sono la stessa Identica persona Perché sono scritti Tutti allo stesso modo Poi so che tipo C'è Fandom Che si è innamorato Di Matthew E me lo potete spiegare Cosa succede Cosa avete letto Che io non ho letto Allora Partiamo con ordine James James è il nostro Protagonista E non capiamo perché Perché ha il fascino Di una buccia di banana Buccia di banana Che non ha nemmeno Del contenuto È semplicemente Un involucro Cioè Non c'è manco La banana dentro È totalmente Dimenticabile Abbiamo trovato pace Ovviamente ora Che devo controllare Il minutaggio È totalmente Dimenticabile È Spesso Insfangabile Ovvero Cioè Insopportabile È una specie Di Will Tanto si rifanno Tutti al personaggio Di Will E al personaggio Di Jace In questa serie È come se poi Will e Jace Non fossero sovrapponibili Per tanti versi Ma non siamo qui Per parlare di questo Comunque È una specie Di Will Che frequenta Il regno delle ombre Ogni tanto È innamorato Di Jace Ma non proprio Ma è anche Innamorato Di Cordelia Ma non lo sa È eccezionalmente Bello E gli piace leggere Wow È fine Cioè Perché poi Fine Cioè Non è nient'altro Non ha nient'altro Matthew È Will Erondale Cioè È sputato Però è biondo Anzi aspetta Allora io Poi ho scoperto Perché l'ho ribeccato oggi Perché io leggo sempre Gli art cover Senza copertina Perché faccio danni Che c'è una mappa Perché dovevamo avere La mappa Per capire chi è chi E io so che Tipo Lui è James E lui è Matthew Perché per me Sono la stessa cosa Quindi ho scoperto Che Matthew È biondo Cioè Perché alla fine A noi interessano I dettagli estetici Perché per il resto Noi non riusciamo A distinguerli Ma se ci dicono Uno è biondo E l'altro è moro Cioè Quando tu non hai Una personalità Devi puntare Sulle questioni estetiche Un po' tipo Lo bombi o lo passi Cioè Queste robe agghiaccianti Che si fanno su YouTube Vabbè raga Fate finta Che non sia intervenuta Perché hanno tirato Veramente fuori Il peggio di me Questi personaggi Poi vabbè Matthew Sappiamo Personalità È quella Di essere Alcolizzato Perché questo Lo rende un po' Sai Tormentatino Il tenebroso Con un passato Traumatico Tanto poi Non gliela danno Lo stesso E tanto a noi Una spiegazione Non la danno Ah Perché poi c'era Nella novella Così E noi dovremmo Sapere Che quello È il grande Ecco Va bene Cioè Ok Alcolizzato E questo È il suo tratto Caratteristico Ecco poi Cioè Ogni tanto Intervengono Anche gli altri E io vi devo dire Che continuo Già a confondere James e Matthew Tra di loro E fondamentalmente Vi leggo una frase Perché questa È la mia preferita L'ho segnata Bellissima Esatto Era Matthew Furchild Salto Righe Così Cerca di sorridere Così nessuno Si accorgerà Di niente Tanto Io e James Siamo praticamente Interscambiabili Per la coscienza Collettiva Non solo Per la coscienza Collettiva Però La Claire Direi che Nemmeno si è Sforzata Di nasconderla Questa cosa L'ha proprio Messa a carta L'ha proprio Messa sulla carta Cioè quindi Praticamente Io a un certo punto Intanto appaiono Gli altri personaggi Che sono tutti uguali Perché nessuno Ha qualcosa di significativo Cioè ci viene detto Quello è questo Questo è questo Ok Va bene Poi a un certo punto Scoprendo che Matthew e James Sono parabattai Io continuavo A confondere Loro due Perché sono esattamente La stessa persona Come ci dice la Claire Cioè poi arrivano Altre persone a caso E poi dopo Cioè non lo so Perché poi alla fine Tutto Cioè se non è Zuppa e pambagnato Quindi Boh Cioè i personaggi maschili Sono proprio la cosa Peggiore di tutto Questo libro Una roba Per me Cioè Ingiustificabile Ma poi passiamo Le personaggi Ovvero partiamo Da Cordelia Che lei è il nostro Personaggio di punta Puntiamo tutto Su di lei Diciamo che abbiamo Scommesso tutto Su di lei Il problema Che da sola Non è che può Reggere la baracca Anche perché Cioè va bene È meglio degli altri Sicuramente il personaggio Meglio approfondito Una Claire Ifray Meno spina Nel fianco Ma pur sempre Siamo lì Come livello Sì È forse Per gli standard Della Claire Un personaggio Indagato un pelo meglio Ma comunque Vabbè Ok Essere meglio degli altri Ma una che risolleva Lo standard E lo fa schizzare in alto Ok Arriva praticamente a Londra Suo babbo è indagato Dal conclave È una crocerossina Di origine persiana Così a caso Perché dovevamo mettere Un tic nella rappresentazione Per me È agghiacciante Come rappresentano La famiglia persiana In generale O le famiglie Di origine farsi Cioè per me era Cioè Fatto proprio a cazzo Proprio alla grande È innamorata di James Perché ovviamente Un giorno Gli ha tenuto la mano Mentre lui aveva la febbre Allora Arriva a Londra E spera di sposarlo Cioè proprio Wow Però attenzione Perché a lei Abbiamo dato tutte le frasi Più o meno femministe Del libro Ne abbiamo dati Quasi tutte a lei Una manciata A Lucy e Dan Ma poi loro Le vediamo dopo Cioè quindi Insomma Le abbiamo dato tutte le frasi Feministe Però poi sottona per James Che la tratta di merda Ma noi tanto sappiamo Che loro sono destinati A stare insieme Quindi alla fine Ci va anche bene Facciamo finta di niente Quindi ci infiliamo Sto triangolo inutile Super prevedibile Solo per ritardare Un altro po' Al compimento degli eventi E ovviamente Non approfondire minimamente Un altro po' Il suo personaggio Cioè rimaniamo comunque Alla base Della caratterizzazione Poi c'è Lucy Che è la sorella di James Che io non ho capito Cosa dovrebbe essere Cioè è un po' Quella artistica Con velleità artistiche È quella frizzantina Che ama scrivere le storie Su Cordelia E può interagire Con i fantasmi Infatti ha ben Quattro incontri Con Jess Blackthorn Di cui ovviamente È follemente innamorata Hanno parlato Per meno di cinque minuti In tutti e quattro Gli incontri Anzi in uno di questi incontri Non hanno praticamente Nemmeno parlato Però lei è innamorata Ha capito Che tra l'altro Nessuno pensa Che questa cosa Sia un po' inquietante O che Cioè nel senso Eh? No? Va bene Poi a un certo punto Decide di mettersi A sperimentare Con la necromanzia No? Che cioè L'unica cosa Che ci hanno detto Dall'inizio In generale Ci hanno sempre detto Che oh La necromanzia È pericolosa Cioè comunque Raga risvegliare i morti Non è che è una passeggiata Cioè non è che lo facciamo Perché eh ben Oggi non sapevo cosa fare Invece che fare L'impasto del pane In quarantena Mi metto a risvegliare i morti Cioè vorrei farlo anch'io Però mi dicono Dalla regia Che hanno passato Dei libri A dirci che comunque È pericoloso Quindi non si fa Perché non ci si scherza Perché poi il conclave Ti fa il culo Ma hey Poi praticamente Lucy e Cordelia In questo schema mentale Sono tipo BFF Perché devono diventare Parabatai Cioè qualcuno ha deciso Che loro due Diventeranno Parabatai Non ho capito Se è una decisione Lora Ma non sembra Però ok Va bene Ci piace Come decisione Non diciamo nulla Insomma Poi loro due Sono BFF Ma hanno tipo Due scene insieme Dove non parlano Praticamente o quantomeno Non parlano In una maniera significativa Cioè però insomma Parabatai Perché tanto è tutto A cazzo Non interagiscono mai Però è sempre bello Sentirsi raccontare Quanto sono amicone No? E poi vabbè raga C'è il mio personaggio preferito Che è Disgrace Cioè si chiama Grace Blackthorn Peraltro Però per me è Disgrace Perché almeno È il personaggio così inutile Che io Un po' mi ci sono affezionata Perché è quella Che ovviamente Tutti odiano E tutti trovano insopportabile Quindi non so Io sono una Stan Personaggio che Non ha alcun tipo Di caratterizzazione Cioè lei è la Damina In difficoltà Vuole essere salvata Ma hey È una cattivona E quindi Noi non ti fiamo per lei Ma cosa state facendo? Pipi! Ma secondo voi Cassandrona Le assegnerà Il premio in palio Col cazzo Perché? Cioè ma poi tipo Allora James prova Questo interesse repentino Trascinante Possessivo E anche un po' morboso Diciamocelo Per lei Cioè per lei Che nessuno ha visto Nessuno conosce così Però hey Mica porsi delle domande Hey James 17 anni Si vuole sposare Con questa che nessuno Ha mai visto Nessuno sa chi sia E poi di punti in bianco Big love E nessuno si pone delle domande Ma non era Cioè Ok Tutto normalissimo Il suo parabattai Sente ogni cosa di lui Sente quando cade Nel mondo delle ombre Sente quando è in pericolo Blah blah Però Però Non percepisce Il problema di Disgrace Non lo so Molto conveniente Molto molto conveniente Ai fini della trama Cioè Che poi tanto Noi dobbiamo disprezzare Disgrace Perché sta semplicemente Rallentando La storyline di Cordelia Perché è manipolativa È una brutta persona È un po' la cattivella Di tutto questo Ambaradan Perché spera di essere salvata Manipolando le persone Quindi perché Sprecare un attimo Di tempo in più Per indagare il suo personaggio Che potrebbe anche Effettivamente Rivelarsi anche un po' Più interessante No Io comunque Ve lo dico Io tengo per lei Io spero che lei Distrugga tutto E scappi col malloppo Qualsiasi esso sia E spero vivamente Che non sia James Perché Se quello è il malloppo Disgrace Hai capito tutto male Poi c'è Anna Che ok Simpa Per quanto volete Ma è lo stereotipo Proprio del personaggio Lesbico Cioè lo usiamo Perché ci serve Però poi alla fine Cioè compare in quattro scene Poi il resto Non ci frega nulla Alastair Drammone Perché hey Sennò perché ci servono I personaggi LGBT Se non per il drama E vi dirò Non mi è nemmeno Troppo dispiaciuto Perché almeno È meno fastidioso Che tanti altri Però cioè Alla fine continuavo A pensare che fosse Qualsiasi degli altri Anche la relazione Che in teoria Intraprende E cioè Tra i due Non riuscivo a distinguerli Cioè diciamo Che il suo contributo Alla trama È paragonabile Al mio contributo Alla fisica Moderna Ovvero Totalmente nullo Poi boh Gli altri sono lì Ci sono Bene Ne prendiamo atto Voi forse siete Sempre più bravi Di me Insomma Poi c'è anche Le risoluzioni Tra i personaggi Matrimonia 17 anni Che da un lato Dovrebbe risolvere Il dramma familiare Però dall'altro Ne scatena altri Perché in fondo Non possiamo mai Smettere di avere Dei drammi Se no Fondamente Questo libro Non ha senso Di esistere Poi vogliamo Veramente parlare Della parte LGBT Allora io visto Che moltissime persone Erano molto felici Perché in questo libro Ci sono tanti personaggi LGBT E condivido Il fatto che Chiaramente Non c'è mai Abbastanza spazio Per i personaggi LGBT E più ce ne sono Meglio è Siamo d'accordo Su questo Il problema è che Nessuno si è reso conto Che i personaggi LGBT qua Hanno un trattamento Secondo me Ridicolo Oltre che Anche un po' Offensivo Sono totalmente Infilati in maniera Casuale Sono tutti Personaggi secondari Con situazioni Ripetitive E poco plausibili Molto spesso Oltre che Chiaramente Già viste Nel mondo Degli Shadowhunters A parte Anna Che chiaramente Però Ha un mega Stereotipo Che Non ha alcun Tipo di approfondimento Gli altri personaggi LGBT Ma anche Anna Tra questi Hanno delle storie Lain buttate lì Riempitive Tutte secondarie Nessuno Che acquisisce importanza Anzi Sono veramente Boh Ci sono Ok Sempre tendenzialmente Tormentati Sempre Drammoni Tanto alla fine A noi di loro Non ci interessa Perché dobbiamo Tornare alle damine Dobbiamo tornare Al nucleo principale Che Basta Veramente E Cioè Diciamo che Ovviamente Il problema Si pone Che Ok Avere rappresentazione LGBTQI Plus Ma almeno Che abbia un significato Che non sia L'ennesima Riprova Che alla fine Cassandra Clary Interessa Spuntare Delle caselline Rappresentazione Qui Ho messo Tanti personaggi Di origine Diversa Alcuni Sono di colore Alcuni Sono neri Alcuni Hanno origine Diversa Altri Sono LGBT Cioè Li ho messi Tutti Ok Che io Apprezzo Ve lo giuro Io approvo Moltissimo Queste cose Però almeno Che abbiano Una dignità Che siano Sensate Perché Se no Significa Semplicemente Spuntare Delle caselline Ci sono Tantissime Strade Che vengono Aperte Tantissimi Personaggi Con delle informazioni Buttate Lì Che poi Non vengono Esplorate Non vengono Indagate Poi Alcune Di esse Che sono Ovviamente Significative Per capire Perché alcuni Personaggi Si comportano In un certo Modo Più o meno Tipo la storia Di Matthew Erano in una Novella Ma non ha Senso Cioè Non ha Comunque Senso Creare un Personaggio Tormentato Che non ha Comunque Una base E un Significato All'interno Della narrazione Questo è il mio Parere Ma poi Spiegatemi Anche questa Cosa riguarda I personaggi Noi abbiamo Gem e Will Che a 16 anni Si comportavano E parlavano Come dei 50 anni Con 30 anni Di carriera alle spalle E ora Invece Assistiamo Alla loro E ora assistiamo Ovviamente Alla loro comparsa Continuamente Sulla pagina Un po' Perché l'effetto Nostalgia Ci piace Ed è l'unica cosa Che rende Giustificabile Questa nuova serie Ma soprattutto Abbiamo 10 Adolescenti Completamente Rincoglioniti Cioè Malsenso Tutta la loro vita È soggetta Tutta la loro vita Tutte le loro scelte Sono soggette Ai genitori Un po' Perché dobbiamo Vederli Se no poi i fan Non sono contenti Però Ciò cosa comporta Comporta che Tutti questi personaggi Oltre ovviamente A non avere Una personalità Perché ovviamente Infilandoci in più Anche i genitori Anche queste dinamiche Anche Gem Noi ovviamente Togliamo spazio All'approfondimento Dei personaggi Quindi assistiamo Alla messa su carta Di 10 personaggi Completamente Rincoglioniti Che non hanno capacità Di intendere Di volere Molto infantili E molto blandi E fino a questo punto Noi abbiamo invece Assistito a famiglie Pressoché assenti Sedicenni Che si comportano Come dei propri Veri adulti E poi Da un lato Lo giustifico anche Perché si vede Che i genitori Sono sicuramente Più presenti Però è davvero Molto poco realistico Si lamentano Chiaramente dall'inizio Alla fine Che non li hanno resi Degli shadow hunters Come erano loro Ok Ma questo Li rende veramente Degli incapaci Di intendere Di volere Sono ragazzi Che sembrano Lasciati in balia Di qualsiasi cosa Gli capiti Che ovviamente Risolvono gli adulti E questo è un po' Anche un controsenso In shadow hunters Secondo me Che nasce invece Da altre prospettive Allora poi Insomma più o meno Diciamo che Le problematiche più grosse Poi non mi sento neanche Troppo di sparare Sulla croce rossa Le ho evidenziate Però vi leggo anche Un altro paio di frasi Che io ho trovato Agghiaccianti Soprattutto perché Hanno a che fare Con la traduzione Io ve lo dico La traduzione È Non ottimale Se non per dire Spesso Molto problematica Vi leggo questo passaggio Allora Ti sei messo in posa Mi verrebbe voglia Di farti un ritratto Lo intitolerei Gentiluomo Dissoluto Risposta Non sai tirare Una riga Tess Allora Questo evidentemente In inglese È You can't draw a line Tess E Sì ok Poi in una parte Dove tutta Love love Così Ma You can't draw a line È un modo di dire Inglese In italiano Sarebbe Non sai nemmeno Abbozzare In italiano La traduzione Va parafrasata Perché non esiste You can't draw Non puoi tirare Una riga Tess È anche molto Vabbè In ogni caso Sì io ve lo Ve lo dico Secondo me Anche con un'ottima traduzione Chiaramente Il risultato finale Non sarebbe cambiato Per nulla Perché tanto Rimano un libro Che secondo me È molto molto Mediocre E si vede Si vede proprio Che è stanca Anche di questo mondo Si vede proprio Che le idee Per questo mondo Sono poche E ora Ormai siamo arrivati Proprio ad eliminare Il superfluo Allora a mio parere Nel senso Cassandra Clare È arrivata ad un punto Che Che al di là Della traduzione Che ripeto Non risolleverebbe nulla Perché il problema È che pur capendo Che alcuni passaggi Della traduzione Non sono perfetti La base La sostanza È chiaramente espressa E non è un problema Della traduzione Però veramente Io trovo che A questo punto Mi chiedo Perché ancora Cercare di Mungere la mucca Perché quando Non si hanno idee Non si va su altro Poi è ovvio Finché il pubblico Continuerà a comprare A sostenere questi libri Che dire Follettini Follettine Lo sappiamo anche noi Io ovviamente Gli ho dato due stelline Perché per me Di più Non se le merita Neanche a piangere È proprio un libro Che secondo me È molto mediocre Magari per gli standard Di Shadowhunters Alcune cose Sono fatte meglio Ma io non riesco A capire quali Ho veramente avuto Una grandissima difficoltà Vi dico una cosa Che mi è piaciuta Secondo me Mondadori ha fatto Un ottimo lavoro Dal punto di vista Della copertina E in generale Ci siamo liberate Delle facciozze Che boh Con segni Sulla cosa Cioè Quelle robe immonde Questo è veramente Molto bello Anche nei capelli Di Cornelia Ci sono queste foglie Traslucide Con vari elementi Traslucidi Che secondo me Sono molto belle Molto pregieboli C'è all'interno L'illustrazione Che vi facevo vedere Prima Secondo me Ha fatto un ottimo lavoro Almeno da questo punto Di vista qui Poi ecco Ripeto Quello che ho detto Anche inizialmente Io so che la fanbase Di Shadowhunters È molto compatta E molto poco Inclina alle critiche Chiaramente io Lo faccio Perché il mio compito È analizzare Libri E almeno qua Sull'internet Libri Ha Libri Fantasy Sono il mio Core Ok E io trovo che Insomma Questo Non sia un passino avanti Perché io spero Sempre che Pur imparando anche Dalle Dagli errori Del passato Dalle cose Che magari Non avevano convinto Nel passato Qualsiasi scrittore Può invece migliorare Io non vedo Questo miglioramento Nella Claire E so che è una serie A cui tutti sono Super affezionati Quindi ripeto Non prendetela come Un attacco personale Non è quello Il mio intento Invece Quello che è il mio intento È di discutere Sul senso meno Di una serie Del genere Sul mercato editoriale Di oggi Soprattutto Perché È così Dominante E quindi Boh Io sinceramente Sono molto Molto Beh neanche delusa Perché tanto Il livello è sempre Stato quello Io non penso che Ci siamo Discostati dal passato Siamo arrivati A più o meno Il livello Che mi aspettavo E secondo me È ancora più Insufficiente Forse alcune cose Sono fatte addirittura Peggio che in passato Quindi insomma Questo è il mio parere Chiaramente Il mio parere È la mia opinione Che non è sovrapponibile Né la verità Che come dico sempre Io non ho la verità In tasca Anche se ho sempre ragione Scherzo ovviamente Però insomma Non prendetela Come un attacco personale Ripeto Cioè invece che mettere Un pollicino in basso Invece che mandarmi Degli insulti O fare polemichette Su twitter Vi invito Chiaramente giù Nei commenti A raccontarmi invece Qual è la vostra Esperienza di lettura Il vostro punto di vista Su alcune cose Che a me invece Hanno dato fastidio Vi chiedo di farlo Ovviamente in una maniera Educata Proprio perché Siamo in un punto civile Io Spero che Insomma La recensione Sia stata Bastanza completa Nel suo Indagare Quelli che sono Le problematiche Per me Della serie Insomma Per oggi è tutto Io spero di avervi Tenuto compagnia Sono stata un po' cattiva Oggi me ne rendo conto Però ogni tanto Dai me lo concedete Non succede niente Direi che per oggi È tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao